Dopo aver compiuto la loro preparazione teorica, prendendo conoscenza di orari, coincidenze, chilometraggi e tariffe, il primo nucleo di donne ferroviere ha preso servizio. Ecco le addette al controllo dei biglietti. Signori in carrozza, è stato gridato per la prima volta da voci femminili lungo le pensiline delle nostre stazioni. Le donne ferroviere in funzione sui treni, i viaggiatori le accolgono con la più rispettosa e cameratesca simpatia. Grazie